Io sono per valorizzare le tante capitali italiane, perché l'Italia sia un paese molto ricco perché ha avuto tante città che sono state per dei periodi capitali. Siracusa è uno di questi. Per un periodo dell'antichità è stata una delle città più popolose e più importanti del mondo conosciuto. Quindi fare un evento a Ortigia è bello, è giusto. Riuscire a far uscire da questo elemento di confronto un'azione impegnata sui temi della siccità e della crisi climatica è doveroso, perché oltre l'aspetto pubblico e di incontri, io quello che ho potuto dire al teatro comunale è che la sfida è non rassegnarsi a un cambiamento climatico che nelle nostre zone, la Sicilia in particolare e il Mediterraneo, potrebbe essere molto problematico perché siamo consigliati un hotspot, cioè un luogo dove il cambiamento climatico può influire molto pesantemente.